salve cari amici del web sono andrea bruno in questo momento mi trovo sull'autobus che da giacarta aeroporto porta in giacarta centro città come potete vedere l'autobus è dotato di wifi libero e gratuito è dotato anche di aria condizionata è un ottimo autobus a questo punto io mi chiedo ma non è che gli zulu siamo noi